Avviso di chiamata di Delia Efron per Fazzi Editore Ho sempre saputo che mia madre non aveva amici perché non parlava mai al telefono. Durante la giornata, quando il telefono squillava, rispondeva la donna delle pulizie dicendo Casa Mozel, oppure mio padre, berciando Ci penso io, o altrimenti io e le mie sorelle ci contendevamo la cornetta strappandocela a vicenda dalle mani. Se era Giorgia a rispondere e la lasciava cadere facendola pensolare a un paio di centimetri da terra, voleva dire che la telefonata era per me. In ogni caso non era mai per mia madre.